Ciao Cipollini! Benvenuti di nuovo su GiuliaTV e questa volta non siamo più su StumbleGuys ma siamo su Rubolox. Rubolox è un... no non è Rubolox. Perché sbaglia sempre? Ma mi ha solo la memoria? Siamo su Rubolox e siamo a speedrun, una cosa velocissima mi ha detto Giulia. Io non l'ho mai visto, voglio proprio vedere questa cosa velocissima cos'è. Vediamo, prendi il tuo jobpad che... porco cavolo, quanto va veloce! Yaspiterina! Che cos'è ma è Flash? Ma sei Flash? Cavolo se va veloce! E ricordati che il jobpad nostro purtroppo ha un difetto e va avanti da solo, ti ricordi? Sì. In questa speedrun è veramente difficile con questo jobpad, quindi difficoltà maggiore per quel po' del jobpad! Mamma mia che velocità! Che velocità! Aiuto! Però è un po' semplice, è veloce veloce ma mi sembra abbastanza semplice quella cosa, dai! Devi solo saltare, saltare, saltare e saltare di nuovo e saltare di qua e saltare di qua. Ah basta! Ah va, è stato zitto. Ma qui se saltavi in diagonale ne saltavi due, non ti serviva andare di qua, di là, su e giù. Per poco! Come cavolo ho fatto? Non lo so, hai schiacciato X probabilmente. Attenzione! Attenzione numero! E chi è questa? Ma perché si teletrasportano qua? Ma è un cerchio? E fai sempre la stessa? No! Cavolo! È lontano questa! Ma te, tu c'hai l'ipervelocità di conseguenza, basta che solleva il piede... Tutti ce l'hanno! Tutti ce l'hanno? Sì! Ah non solo tu? No! E come mai? Ma che cos'è che hai mangiato per andare così veloce? Non lo so papà! Che sei mangiato? Ho mangiato le spinaci! Peperoncino! Secondo me è il peperoncino, guarda, 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 peperoncino. Ti brucia la lingua e quindi corri... Oh! ...più veloce possibile per darti un attimo di aria a questo super peperoncino. Papà mi giuro che mi stai facendo... Ma perché sei passata di lì? Passavi dall'altra parte? Saltavi... Non lo fiega, io lo voglio più difficile. Ah ok. Ma quindi arrivi là dove ci sono quelle casette là, dopo... Che casette? E guarda, là ci sono delle case. Io non lo so papà, ma non so se riusciamo in tutto questo video, eh? Ah no? E dici che dobbiamo fare due video separati per arrivare fino là in fondo? Sì. Non ci arrivi in un'unica soluzione? No, è lontano, lontano papà. Ma perché... Sì, sì, ma perché c'è la gente... Ce l'ho fatta internet! Ma perché c'è la gente che sa arrivare da qua? Ma perché è caduta? E allora quello è tipo un checkpoint? Beh, sì. Non ho capito. C'è che... Ah sì, ok, l'abbiamo scoperto. E adesso dove devi andare? Al di là. Io me l'ho già perso. Io no. Ok, bravissima. Gira la telecamera nel modo giusto per poter passare. Ecco, c'è là una signora che è indecisa. Guarda, quella signora l'ha indecisa. Non sa dove andare. È rimasta lì, ferma, immobile, e sta guardando la gioco del cielo profondo. Questo è il gioco del cielo profondo. Invece là c'è gente che salta a caso. Guarda, l'aveva in fondo. È un po' come noi. Ok. Invece questa è impazzita. Ma perfetto. Andiamo a vedere. Questo video è stupendo. Meraviglioso. Questa qua che ride, quella la ferma? Sarà ancora la prova? Girati, l'ha ancora ferma. Guarda. Ah no! Eh sì, è ancora ferma. Boh, starà pensando, non so, ai compiti che deve fare a scuola ed è preoccupata per il giorno dopo. Attenta a ridere, vedi cosa succede a ridere? Vedi? 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 Io sto solo parlando. Guarda che c'è il cielo, perché c'è dentro una palla lì? Ah ok, era l'immortalità momentanea. E quella lì ancora lì ferma. Io sono sicuro che quando avremo finito tutto il percorso e guarderemo all'orizzonte lei sarà ancora lì ferma. Io sono curioso di andare a vedere quei pezzi là gialli. Guarda che sono tutti inclinati. Quelli a me piacciono. Dai, 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 che ci arriviamo. Perfetto. Super velocità. Oh, oh, wow, what's up? Ah, ok, giallo e rosso è un po' flash, ci sta. Fa molto flash. E con questi salti, questa trasparenza che ci aiuta un po' a capire effettivamente dove andare. Quindi grazie programmatore di questo livello ad aver fatto questi dischi trasparenti, perché sennò sarebbe stato leggermente più difficile. Perché? Eh, perché non vedevi cosa c'era sotto fino all'ultimo secondo, invece così riesci a vedere perché è trasparente. Quindi grazie davvero tanto al signore che non sappiamo il nome, però grazie di averci facilitato questa cosa. Ok, stiamo arrivando nel viola, zona viola. Siamo nel... Zona viola. Questo è cos'è lilla? Ciclamino, c'è color fucsia, cussia, color fucsia e siamo arrivati al checkpoint anche qua. Questo mi sa che è veramente difficile, ma Giulia è troppo brava, non è vero. Diciamo. No, stiamo andando indietro, stiamo andando indietro, ok. Attenzione. Ah, ma forse è più facile del previsto. Forse è più facile del previsto, ragazzi. Se avessero messo le cose una di qua, una di là, una a destra, una orizzontale, una verticale, una orizzontale, una verticale, era un po' più di... Ma stavi ancora cadendo? Quanto cavolo cadi? Ok, saltalo lì, saltalo là. Vola. Giulia, vola. Attenzione. Ma dai, Giulia, ma tu che mi fai questi errori. Ma non è da te, piuttosto stai ferma come l'altra, che è meglio. Eviti di fare figuracce. Ok, l'abbiamo passato. Siamo passati. Adesso arriviamo allo stage nero-grigio. Cos'è nero-grigio questo? Non lo so. Non si capisce dalla trasparenza. Eh, ma dai, ma adesso devi rifare tutto da capo. Allora, adesso facciamo un po' di tentativi. Se non riusciamo nei prossimi 4-5 tentativi, chiudiamo quel video e ci rivediamo ad un prossimo... Vediamo come va, vediamo come va. E ripartiremo da qua, ovviamente. Perché non è che stiamo... Ma dove? Stai cadendo dove? Ok. Saltalo. Saltala. Corri a perdere il fiato, corri insieme a me. No, lì non stai correndo, stai cadendo. Non volevo dirtelo, ma lì non stai correndo, stai cadendo. E adesso stai roteando. Così rotei, così salti, così cammini, salti e cammini. Secondo me sei arrivata in un punto di ridarola totale e ti distrai. Dai, stai concentrata. Fallo per i tuoi followers. Hai perso due followers. Ne avevi tre, ne hai persi due. Attenzione, attenzione. Stai concentrato. Devi fare come... Devi essere come il pomodoro, concentrato. Ok, dai. Allora, io direi che vi è partita la ridarola, quindi salutiamo tutti. Basta, non ce la fa più. Basta. Non ce la fa più. Aspetta, 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 aspetta. Non riusciamo a vederlo, no? Non riusciamo a vedere se quella l'ha ancora la ferma. Sì, guarda là lì. Dici che è là, lei ferma. Sì, sì, guarda. Dici che è lei, è lei? Si sta morendo, sì. Ok, ok, è la ferma. Guarda, si sta solo saltando. Ok, ok. Quindi, grazie per averci seguito fino a qua. La vedete voi? Guarda, si è mosso. Ok. Ah no, no, non è lei. Ok, Giulia, ok. Adesso facciamo i saluti, va bene. Quindi, grazie a tutti per averci seguito fino a qua. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, attivare la campanella per essere sempre aggiornati su ogni nostro video. Da Roblox a Minecraft. E adesso abbiamo anche Stampella Guys, che è un bellissimo gioco. Ah no, Stampella Guys, giusto? Stampella o Stampella? Vabbè, qualcosa di... Stampella Guys! Quindi, un grosso ciao cipollini da Alberto e Giulia. Quindi, ciao cipollini!